Ancora l'arte contemporanea, ancora una volta a Firenze, stavolta alla fortezza da basso per Florence Biennale. Dieci giorni all'insegna dell'arte contemporanea, il tutto alla fortezza da basso fino al 15 di ottobre. È l'undicesima edizione di Florence Biennale, 462 artisti provenienti da 72 paesi di tutti e cinque i continenti, protagonisti di questa kermesse che quest'anno si snoda intorno al tema health, creatività e sostenibilità. Più di 1300 opere esposte in fortezza da basso su 8000 metri quadri di padiglione espositivo, sono 72 nazioni rappresentate e quindi tutti e cinque i continenti che espongono appunto un panorama dell'arte contemporanea a 360 gradi con la possibilità di incontrare direttamente gli artisti che sono presenti in Biennale e con i quali appunto si può parlare per poter anche fare delle domande, chiedere, avere delle spiegazioni se questo è necessario e poter eventualmente anche entrare direttamente in contatto con loro per vivere il loro modo di fare arte. E non mancano le curiosità come un artista danese portatrice di handicap che dipinge con la bocca e poi ancora giovani emergenti provenienti dalla Russia, da Israele e dall'Argentina ma anche fiorentini con la passione della pittura realistica. Avremo dieci giorni di conferenze dedicate ai vari aspetti della sostenibilità e quindi il cibo, la moda, le città green, ma i musei sostenibili, il restauro sostenibile così come per esempio la conferenza ICOMOS che è il Consiglio Nazionale della Ricerca UNESCO che si terrà sempre qui all'interno della Fortezza Abbasso il 14 di ottobre. Florence Biennale e anche premi speciali come il Lorenzo il Magnifico quest'anno ha segnato al ganese il Anazio riconoscimenti speciali all'architetto giapponese Arate Sozaki e alla carriera allo scultore Sauro Cavallini il paese più rappresentato alla rassegna l'Italia con 65 artisti presenti seguito dalla Cina con 60.